Nella sesta domenica del tempo ordinario ci ritroviamo davanti un brano sul discorso della montagna che ci invita a riscoprire la bellezza e l'altezza della vita cristiana e la riscopriamo insieme a padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana carissima Anna Maria, carissimi amici e amici. Oggi è un testo davvero molto forte direi e anche abbastanza lungo come testo perché andiamo dal versetto 17 al versetto 37 del famoso capitolo 5 che stiamo leggendo in queste settimane. Io gli darei il titolo Oltre la legge, nel senso di dire che quel Gesù che ha meditato la legge, la famosa Torah, non l'ha fatto mai per negarla, anzi, lui è stato un ebreo fedele, è un autentico figlio del comandamento, come ci ricorda proprio Luca nel capitolo 2. Gesù non si è mai opposto alla legge, Gesù si è opposto alle interpretazioni riduttive che venivano date da certi scrivi e farisei, uomini religiosi che, come dice il testo di Matteo 23, bellissima l'espressione, filtravano il moscerino e ingoiavano il cammello. Un'immagine bellissima per dire andate a trovare la mosca, l'insettino nella cosa e non vedete l'elefante che vi sta venendo incontro. Quindi è un Gesù che è contro una lettura legalistica o letteralistica della parola di Dio. Quindi pensate che all'epoca di Gesù, questo per ricordarlo alle nostre amiche e ai nostri amici, i precetti erano arrivati a 613. Immaginate ricordarli a memoria. Rendeva impossibile anche l'osservanza e quindi veniva meno il centro della legge. Dove sta oggi la chiave di lettura? Perché è un po' questo il mio compito. Sta proprio al versetto 20, dove Matteo mette per la terza volta la parola di Caiozione, la giustizia. Dice così Gesù se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi dei farisei, voi non entrerete nel Regno dei Cieli. Qual è la giustizia di cui parla Gesù? Ne ha parlato già nelle piatitudini. Beati quelli che hanno fame e sede della giustizia, beati i perseguitati a causa della giustizia. Questa è la terza volta che parla di giustizia. È proprio tutto ciò che lui sta annunciando. Un discorso della montagna che ci porta una buona notizia, un Vangelo che ci conduce alla santità, e cioè alla piena nostra umanità. Ecco perché Gesù per tre volte usa quell'espressione «ma io vi dico» oppure «ebbene, io vi dico». È rimasta famosa con questa espressione «ma io vi dico», che non è una contrapposizione, ma Gesù vuole spiegare davvero qual è il senso delle cose, dando delle istruzioni su tre ambiti molto specifici. Il conflitto con il prossimo, il comportamento verso la donna, che veniva continuamente cosificata, il rapporto con la verità. Per cui contrappure di volta in volta quello che era l'interpretazione dell'insegnamento dell'Antico Testamento, il suo. E quindi va a vedere come lui lo porta a compimento. Gesù ci chiede di andare oltre. Ecco perché dico oltre la legge. Non basta non uccidere. Tutti sanno che l'omicidio è un peccato terribile, no? Ma bisogna anche rispettare il fratello, evitare di offenderlo verbalmente. Bisogna fuggire l'ira, perché può uccidere, può scatenare la violenza che è dentro di noi, smetterla di chiamare gli altri stupidi. Il termine che c'è sotto indica proprio la testa vuota, come diciamo noi, è una testa di zucca. È un giudizio. Le parole, i propositi offensivi, sono già peccato, perché esprimono in modo diverso ciò che si ha timore poi di compiere concretamente. San Gregorio Magno, grande Papa, notava con finezza che con la voce e col desiderio si può commettere un omicidio, anche se non alzi la mano contro il prossimo. Giovanni Crisostomo, grande esegeto, grande santo, dottore della Chiesa, diceva che chi si astiene dall'ira si asterrà anche più facilmente dall'omicidio. Bisogna saper frenare la propria indignazione, così riuscire a trattenere anche le mani, perché l'ira è la radice dell'omicidio. Molto bella. Crisostomo diceva tagliala questa radice e tu vedrai che gli impedisci anche di germogliare. Quindi non conta offrire poi un dono a Dio ed essere in disaccordo tra noi. Se tu stai offrendo all'altare l'offerta al Signore, un fratello ha qualcosa contro di te, va prima da lui. O mettiti d'accordo prima di arrivare al giudizio, mettiti d'accordo con tuo fratello. Non basta commettere adulterio, bisogna evitare di possedere con lo sguardo, fuggire i desideri malsani, evitare che la donna sia cosificata. Immagini molto forti, molto radicali. Ecco perché Gesù arriva con queste immagini a dire è meglio cavarsi un occhio che con tutti e due andare nella Gehenna, cioè nell'inferno. Per dire che cosa, con queste immagini iperboliche molto forti, per dire che dobbiamo lavorare su quella parte di noi stessi che inclina al possesso, all'ira, alla violenza, all'egoismo più spreggevole. Se davvero vogliamo vivere il Vangelo, dobbiamo lavorare sul nostro cuore. Dunque queste immagini molto forti che non vanno prese alla lettera, è chiaro, ma vanno viste in senso traslato. Cosa ci chiede Gesù? Combatti la cupidigia del tuo cuore, affronta dentro di te quel peccato che alberga nella tua vita. Quindi è importante, anche sul fatto del divorzio. In realtà la legge voleva impedire l'abuso della donna. A volte se la donna non sapeva cucinare veniva consegnata il libello e mandata via. È forte questo ripudio della donna, questa cosificazione della donna. Gesù invece nella sua vita aiuterà molto le donne, le terrà con sé, le farà diventare discepoli. Per cui l'interpretazione di Gesù è molto più radicale. Vuole difendere i diritti della donna, senza discostarsi dall'intenzione della Torah. Dio le ha voluti fin dal principio, uomo e donna, marito e moglie, perché siano davvero una sola carne. Quindi Gesù davvero darà questa clausola. Anche sul giuramento. ci richiede di non giurare, perché spesso nel nostro quotidiano capita a tutti di dire guarda te lo giuro, Dio è presente, te lo giuro. Non chiamare Dio nelle tue conversazioni per convincere gli altri che tu hai ragione. Non mettere Dio là dove non devi metterlo. Tu devi essere una persona di verità. Il tuo parlare sia sì sì, non no. Che forte è tutto questo. Cioè sì, legato alla verità. Non usare il giuramento per fare in modo di testimoniare che quello che dici è vero. Ma è anche una meravigliosa lezione, carissime amiche e carissimi amici, contro le tante chiacchiere nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, questi gossip maligni che avvengono anche nella chiesa. Ci viene chiesto di essere persone chiare, franche, che non giocano sugli equivoci, che non ricorrono ai giuramenti per farsi credere, che non fanno simulazione, abbiamo detto domenica scorsa. Per cui questa radicalità di Gesù è quella di chi, mentre risale all'intenzione della legge quando il padre l'ha data, esalta noi discepoli a vigilare sulle nostre intenzioni, sulla purezza del nostro cuore. Se il cuore puro diventa fonte di vera giustizia. Ecco, il cuore puro. Che bello, questa abbiatitudine, beati i puri di cuore, hoi cataroite cardia, dice la abbiatitudine. C'è quel cuore che è libero dai pensieri malvaggi, ovicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calumnie. Tutte queste cose, dice Gesù, rendono impuro l'uomo. E quindi oggi c'è davvero una grande lezione. Dobbiamo imparare a lottare e a cambiare il nostro cuore, non quello degli altri. Perché il nostro cuore è il luogo della lotta più aspra per tutti quanti noi. Se vogliamo diventare davvero più uomini e più donne. Aprendoci alla grazia, ognuno di noi accolga lo spirito e possa togliere dal proprio cuore, con l'aiuto della grazia divina, tutti questi pensieri negativi. È quella la lotta spirituale che ognuno di noi deve compiere. Ed è questo che vogliamo anche augurare a tutti quanti i nostri amici e alle nostre amiche. E noi ci associamo al tuo invito. Grazie Padre Ernesto, serve per comprendere i fondamenti dell'esistenza cristiana. Io spero che oggi davvero facciamo nostro il Salmo, no? Beato l'uomo che vive da giusto, che nella legge di Dio cammina. Beato che osserve i suoi decreti per stare a lui vicino con il cuore. Salmo 119. Buona Pasqua della settimana. Grazie. Oltre la legge riprendiamo il titolo che hai dato all'inizio di puntata. Shalom. 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 Grazie a tutti.